La ragazza l'ho invitata io. Lascia correre. Ecco, questa è la tua bustarella. Davvero? Le chiedo scusa. Siete sotto stretta sorveglianza, eh? Scusami, forse non sarei dovuta venire qui da te. Ren, lasciami. Io non ho nessuna intenzione di rimettermi con te. Mi sei mancata tanto. Non sarei dovuta venire.